Adesso è un consiglio che vuole il bacio da tutti gli uomini e io il bacio da tutte le donne. A testa ti perco 30 secondi. Adesso è un consiglio che vuole il bacio della vita sulle a tutti gli uomini e io il bacio di tengli un buon spro. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti